Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio condividere con voi appunto la nascita del team ufficiali simdrivers.eu, quindi simdrivers.eu, racing team perché, allora, siccome non c'è più tanto tempo per organizzare dei campionati, almeno io non ho più tanto tempo per organizzare voglio dare continuità appunto al divertimento, al girare in pista e quindi di conseguenza ho creato questo team in modo tale che ci siano la possibilità come gruppo di andare a competere, a giocare, a girare, quello che preferite in altri portali dove hanno la possibilità di organizzare questi eventi. E perché non fare un team? E perché no? Facciamolo, eccolo qua, lo sto facendo, lo sto lanciando, voglio che sia qualcosa che sia multiplatform quindi aperto anche a chi ha playstation 4 e xbox perché ho tante richieste di aiuto, allora perché no? e ovviamente PC. Tutti i simulatori sono dentro e tutte le discipline, cioè non parliamo solo delle gare classiche ma anche delle 24 ore, parliamo delle endurance da 2 ore, 6 ore, parliamo, che ne so, del rallycross, del rally parliamo di insomma quello che vi piace per quanto riguarda la simulazione automobilistica. Per farciò ho creato una sezione del forum simdrivers.eu dedicata proprio al team ufficiale simdrivers e anche un canale discord e perché no anche un gruppo whatsapp, troverete tutti i link per accedervi proprio nella discussione su simdrivers.eu. Quindi se siete appassionati di simulazione, ci seguite, vi piace la nostra mentalità e quello che facciamo con i simdrivers, volete correre insieme a noi e rappresentarci, allora venite ad iscrivervi ragazzi è semplicissimo, creiamo un gruppo, amicizia, coesione, possiamo diventare anche competitivi perché no? O anche solo per divertirsi for fun, insomma se volete passare delle serate insieme a noi cercheremo di creare dei server proprio per allenarci in funzione insomma delle disponibilità e anche delle piattaforme in cui si gira, insomma PlayStation e Xbox sarà un po' più complicato però perché no? se c'è gente che vuole aderire a questo gruppo e che gira su console, noi siamo aperti ovviamente per accoglierli mi raccomando ragazzi, fair play la prima cosa, cerchiamo di dare una buona immagine di questo nuovo team nascente simdrivers che passa da organizzatore a partecipante di questi eventi, andiamo a scoprire cosa offrono anche gli altri portali ce ne sono tantissimi, sta a voi quindi dire a noi dove volete correre, con chi proporre e poi noi ovviamente vi seguiremo, cercheremo di fare un albodoro, cercheremo di fare delle cronache su questo forum raccontarle perché no via video magari se ho tempo per raccontare appunto quello che fanno i piloti nel nostro team ovviamente è aperto non soltanto a team, non soltanto ai piloti ma anche ad esempio a chi ama fare i setup agli ingegneri di pista, ai telemetristi, chi fa le skin, ai grafici, insomma ragazzi il team è aperto a tutti e non per forza bisogna essere dei fenomeni in pista, anche chi vuole debuttare ad esempio un'idea potrebbe essere fare una scuola per giovani piloti insomma le idee sono tante, la voglia c'è, il tempo un po' meno però cercheremo di fare il possibile quindi se vi va di far parte di questo team, nascente adesso ragazzi non esitate ad andare su simdrivers.eu, cercate l'iconcina we want you e niente, seguite le istruzioni, iscrivetevi, ci mettiamo subito in contatto e iniziamo a fare magari le prime gare, le prime idee da mettere giù per fare un qualcosa di veramente carino quindi ragazzi ricordatevi, we want you, venite, aderite al team simdrivers.eu, racing team ciao